Sempre questa cosa, questa maniata di scrivere, scrivere sempre, e poi non è che io mi concentravo, scrivevo così, già una bandiera, però riuscivano bene, non lo so nemmeno io perché, che dire, delle volte mi dicevano noi che fare una poesia, un dialetto così. A me, io un dialetto lo faccio parlare bene perché a un certo punto la riazzetta vedeva quelle macchiette che parlerano e mi è rimasto sempre impresso, però andavo sempre sul comico perché mi piaceva molto la comicità, l'allegra, l'allegria, così, e riuscivano bene queste macchiette così, tanto è vero che ho cominciato, diciamo, i concorsi e vincevo, vincevo, e allora mi invogliavo pure, insomma, a scrivere. E che dire, la poesia poi in italiano sono stati d'animo un po' particolari perché la tristezza botta di volta la poesia, perché ci stanno quelle che toccano il cuore, però non ci riesco perché mi da piangere una stupida, non ci riesco, faccio come l'italetto. Ma io sono talmente al naturale che mi piace parlare sia in italiano, secondo le persone, sia il dialetto, il dialetto è più naturale. Ciao! 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 Grazie a tutti.